Intro E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi Non ci credo siamo finalmente riusciti a tornare ragazzi Veramente questo video lo chiamerò al ritorno ma si tratterà naturalmente di Deadpool Il quarto episodio ragazzi scusate ancora per la mia assenza ma ancora a causa di internet Così, oggi mi è arrivata la fibra e prima di iniziare questo video devo anche salutare 4 persone Lucio Ippolito, ti saluto caro mio Emanuele Pannarese, Rufi011 e Pedrucci Pedrucci ti saluto con molto piacere E anche Giulio Abbiati, cioè tu ti saluto con piacere ragazzi naturalmente Tutti i miei cari amici, vi ringrazio veramente per il sostegno Ancora in queste settimane, questa settimana e mezzo, due settimane Che non sono uscito a fare i miei video soliti E no, ero andato a Bologna ragazzi, guardate cosa ho preso Eh eh, si, Batman con la testa strana Come ricordino, si E niente ragazzi, spero che il video di oggi vi piaccia e ci vediamo alla visione di Deadpool Bella ragazzee E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Deadpool ragazzi Siamo tornati, questo è il quarto episodio, l'ultimo è stato di quello di me Sergio un mese fa ragazzi E da un mese che non porto Deadpool, mi dispiace molto E quindi oggi siamo pronti a ripartire E siamo arrivati dove andiamo quindi a cazzotti un ciccione Quel cattivo e andiamo lì nel mongonfiabile Atterriamo così, è veramente una testa strepitosa Deadpool Ragazzi quindi siamo qui Guardate è tutto sgonfiato qui e quindi andremo avanti ragazzi Allora Oddio, giusto, tondo per terra trasportarsi Scusate ragazzi, devo ripenderci un secondo la mano Cos'è ragazzi, cos'è? Mario Bros, cos'è? Una cosa del genere Cos'è? Ragazzi troppo di sé simpatico Allora Oddio, scheletri Scheletri naturalmente che perdono sangue, certo Sì, sì, scheletri Sì, adesso vi facciamo fuori Tutte in una volta Brutti, rulluri di POM Tish, tish Distrutti ragazzi, benissimo Scusate, cos'è sta roba? No ragazzi, dovete dirmi che cos'è, scusate Ok ragazzi Si sa che Deadpool è fuori di testa Quindi non facciamoci tanto caso Eccoci Distruggiamo qui Perché c'è un simbolo Un masso con il suo simbolo E dei cosi Di fuoco qui Che ci vanno intorno ancora Cosa vogliono i simostriciattoli Oddio Tic, tic Ragazzi, troppo simpatico Deadpool, eh Dovete metterlo Ragazzi, poi torneranno tutte le serie normali Naturalmente GTA Minecraft Con Frank Gaming BR Iscrivetevi al suo canale E anche Lo ripeto A Giulio Abbiati Perché è un mio amico di atletica E mi ha chiesto se posso fare un po' di pubblicità A lui Oddio, che cos'è? Oddio ragazzi Da quanto non mi divertivo con voi Mi siete veramente mancati Ok Ah, si sono distrutti i mostriciattoli Tu cosa vuoi? Ma lei va Vabbè Se mai io cosa voglio Visto che mi hai chiuso la porta Eh, mi hai lanciato i massi in bocca E non posso più andare avanti Anzi, si Haha Po, po, po Distruggiamoli ragazzi Allora Perché poi mi sanguina il Diciamo Culo Dopo cosa qui me lo dovete spiegare ragazzi Oddio Distruggiamoli Ok Benissimo ragazzi Continuate quindi Quindi anche a chiedermi di salutarvi Così Vi saluterò E sarà anche per me un piacere Ok Distruggiamoli E vi ricordo di entrare Nella In Cosa In Clash Royale Nel mio Nel mio clan Mattigos28 Sempre così si scrive ragazzi E anche su Ragazzi La crew di GTA I drogati Crew La creata Airtek Lo conoscete tutti Credo Chi mi segue Che abbiamo fatto anche dei video in GTA Insieme a Raftar Gaming E lui E ragazzi Se volete entrarci È soltanto invito Quindi dovete aspettare Che lui vi faccia entrare Ecco Oh io Quando Oh io Ecco così Ragazzi Ok Pom pom Dai distruggiamoli Ok Madonna Benissimo Distruggiamoli Distruggiamoli Così qui sono veramente potenti Eh ragazzi Veramente Distruggiamoli Ok Se vedete Abbiamo Non mi ricordo Se ho fatto il video in cui Ho comprato queste armi Ragazzi Super Ecco Pom pom Allora Se lanciamo una granata Esatto Pom Benissimo Muori tu Brutto Schifoso Ok ragazzi Adesso Dove dobbiamo andare Ok Adesso Tagliamo qui Ok ragazzi Abbiamo trovato l'entrata Quindi Oddio Scusate ragazzi Per questa interruzione Mi si è staccata La webcam E ci chiude ancora La porta in faccia Questa Le pietre in faccia Va E niente ragazzi Scusate Mi si è staccata La webcam Ma Deathpool Non li fa schifo Vivere sempre Qua nelle fogne E neanche questa volta Riusciamo a beccarli No ragazzi Oddio Hulk Ma che cosa Hulk in Deadpool Non l'avevo mai visto Ragazzi Però Perché c'è un mostro Di ghiaccio Sembra anche una nuova versione Di Hulk È luminoso Verde Ha i pantaloni strappati Mi sembra Oddio Però lo stiamo eliminando ragazzi Questo è l'importante Sembra una nuova quindi Modalità Di Hulk Oddio Bene lo stiamo deviando Siamo bravissimi ragazzi Benissimo Ultimo colpo In test Ciao ciao POM In test Ha detto fatto Benissimo Ragazzi Prendiamoci su tutti i suoi gettoni Che ci dona Molto gentile Benissimo Ragazzi Eccoci qua Tondo Per passare qui Ragazzi Il video Finisce qui Ragazzi C'è che Adesso Batto Arrivo qui Vediamo dove ci possiamo fermare Ok Mi sa dopo questi nemici Stacco E entro stasera ragazzi State tranquilli Che esce Un altro episodio Il quinto episodio Di Deadpool State tranquilli Che abbiamo Adesso la fibra E Arrivano in tre secondi I video Ricordatevelo POM Benissimo ragazzi Bene 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 Ok Passiamo avanti Eh qua c'è il tubo Che non mi fa andare avanti Ok distruggiamolo Muori brutto porco POM POM Merto ragazzi Credo Merto POM Si difende anche bene Questo qui Muori Muori Dai Dai Ragazzi Il video quindi Di adesso Finisce qui Entro stasera Anche prima Uscirà la Seconda Cioè Il quinto episodio Di Deadpool Noi ci vediamo Alla prossimissima Con un nuovissimo Video Quindi adesso Iscrivetevi Per chi non l'ha ancora Fatto Arriviamo A 25 like I soliti Ragazzi Ritorniamo anche Un po' Sbollicciare E Ci vediamo Alla prossima Ragazzi Ecco E Dopo Ciao Ragazzi Bella Super E Sbollicciare Cm 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 Grazie.